L'editor deve prendere molto malox per governare insieme a 5 Stelle? Io sì, perché dopo unioni civili, francamente, ne ho passate, ne ho viste troppe, insomma. Io ho lavorato per due anni su un accordo, quell'accordo è stato tradito il giorno in cui si votava il primo emendamento in aula. Era il 16 febbraio del 2016. Ma quindi teme che vi tradiscono di nuovo anche adesso che siete insieme al governo? Io penso che chiunque può tradire sempre, nella vita e nella politica, se ne ha un vantaggio o se vuole rompere un meccanismo. Il tradimento non è altro che la rottura. Personalmente io penso che lui da tempo avesse preparato la sua fuoriuscita. Ma possiamo dire che è stato un tradimento nei confronti del PD? Secondo me sì. Quindi lei non andrà mai con Renzi? Ma io non andrò mai in nessun altro posto che non sia il PD. No, tra l'altro Zingaretti, il leader del suo partito, ha detto in serata che lui è prontissimo anche ad andare alle elezioni anticipate. Quindi, insomma, voi siete pronti, pronti a qualsiasi evenienza. Noi siamo strettissimi in questo momento. È vero, Domenico è venuto da me e la domanda gliel'ho fatta. Perché poi, tra l'altro, secondo me, se lui staccasse la spina oggi, Renzi va in difficoltà. Perché Renzi ha bisogno di... E forse anche i 5 Stelle, no? E anche i 5 Stelle, quindi, per carità, non è che... No, perché sennò... No, però l'amico... Vediamo Zingaretti come umile, mite e silenzioso. Zingaretti forse può alzare lui e cambiare questa visione che sia di Zingaretti. Zingaretti esulterebbe, perché viene ancora data il primo partito. La permanenza in Italia mi suggerisce che invece, secondo me, queste sono molto balletto, molto continuo soffiare sulle cose. C'è un rischio enorme evidente a tutti. Questo è un governo nato dalla paura, fondamentalmente. E fin quando non passa la paura, questo governo reggerà a qualunque prezzo. Sì, ma non è la paura dell'economico, non è la paura dell'IVA, è la paura di qual è il Parlamento che eleggerà il prossimo Presidente della Repubblica. Ragazzi, parliamo delle garanzie costituzionali e dopo domenica l'Ubria forse ne avrà anche di più. Se il Parlamento più di destra d'Europa eleggerà il nuovo Presidente della Repubblica e i membri della Corte Costituzionale, noi potremmo avere dei gravi problemi di garanzie costituzionali. Vabbè, ma questo è agitare la paura per l'appunto, quindi non ci saranno crisi.